RITRATTO DI LETIZIA RAMOLINO BONAPARTE Ispirata a modali desunti dalla Roma antica, nell'opera, l'anziana donna è rappresentata sorridente seduta comodamente su una stedia alla greca con cuscino. La stedia poggia a sua volta su un tronco cavo mentre il capo della donna è reso frontale, le braccia sono conserte sul grembo e le gambe cavallate su un appoggio a piedi in un movimento rotatorio che spezza la linearità della posa, creando una sensazione di naturalezza molto lontana dalla rigidità della statuaria classica. Ciò che caratterizza la scultura è l'espressione viva coinvolgente della madre del generale francese che rivolge un sorriso d'intesa allo spettatore, e il vestito riccamente drappeggiato che rende la morbidezza e la flessuosità della scultura. Se il video l'hai trovato interessante prosegui con le prossime opere. Buon ascolto!